Laboratori per bambini aspiranti birrai a cura del museo del castello San Giorgio dell'etnografico ma anche una corsa con un boccale di birra con relativa sfida di abilità. Sono solo alcune delle novità di La Spezia e Birra, la festa delle birre artigianali che torna da venerdì 7 fino a domenica 9 settembre che per tre giorni animerà la città con degustazioni, musiche ed eventi per tutti, adulti e bambini valorizzando l'area dei giardini pubblici. Una particolare festa di produzione dei prodotti tipici quindi birra locale con professionisti, tanti spezzini che hanno incominciato a produrre una bebita di qualità, un prodotto veramente unico ma anche come si deve bere in modo moderato e con intelligenza. Una quindicina i birrifici partecipanti provenienti da tutta Italia che proporranno a spezzini turisti l'assaggio di oltre 30 tipologie di birre prodotti in maniera artigianale. Oltre alle birre si potranno degustare specialità quali muscoli, sgabei, focaccia, acciughe presso gli stand allestiti dal consorzio dei produttori locali. Un momento importante perché in questa festa che viene fatta per celebrare i piccoli birrifici del nostro territorio sia artigianali che brew firm che appunto lavorano e operano e portano in nostra città fuori dalla provincia e sul territorio nazionale. Un momento importante perché oltre a loro ci sarà un momento di confronto con birrifici che vengono da tutto il territorio d'Italia. In programma al palco della musica l'esibizione di gruppi con musiche irlandese, country e dj set. Inoltre spazio anche ai laboratori per bambini aspiranti birrai a cura del museo del castello San Giorgio e etnografi. Il museo del castello propone un laboratorio dedicato alla produzione e alla degustazione della birra nell'antichità e nell'antico Egitto mentre il museo etnografico propone la riscoperta di quelli che sono gli ingredienti principali tradizionali nella realizzazione della birra artigianale e quindi del ricettario classico. Tra gli eventi clou anche una marcia gogliardica denominata marcia birra organizzata da Spezia Marathon. Consisterà nel correre con un boccale di birra lungo un percorso stabilito in città. Il bello sarà che chi arriva con una quantità di birra stabilita vincerà una birra dei birrifici. Presente la polizia municipale con una propria postazione che svolgerà attività di informazione e alcol test con etilometro insieme ad un presidio di Croce Rossa italiana che svolgerà attività di educazione alla sicurezza stradale per sensibilizzare al beve responsabile e i rischi della guida in stato di ebbrezza. Un percorso realizzato da noi giovani di Croce Rossa con gli alcol vista che sono degli occhiali particolari che simulano diciamo lo stato alterato e per cui coinvolgeremo diciamo gli avventori della manifestazione cercando di fargli provare questi occhialini con un percorso che li metterà un pochino in difficoltà diciamo.